L'anima è infinita, quindi se ci domandiamo qual è la quantità dell'infinito futuro che l'anima contiene, vedremo che l'anima contiene l'intero infinito futuro. Lo spirito dà lo sviluppo eterno, di conseguenza l'essere umano decisamente inacquivocabilmente ha il futuro felice. Il Dio è eterno, quindi il futuro per lui è assolutamente concreto. Lui, nonostante le circostanze, ha sempre lo sviluppo eterno, ha sempre la vita eterna. L'essere umano, secondo una componente simile, ha anche l'intelligenza interiore dell'anima. La intelligenza dell'anima sta nel fatto che l'essere umano sa che non esiste un sistema insuperabile. Per esempio, una persona nasce e questa persona fin da subito ha il livello successivo dei venti e poi di nuovo un altro livello successivo e così all'infinito. L'essere umano può pensarci, per esempio può stabilire il livello infinito di sviluppo, qualsiasi livello infinito di sviluppo. E poi, postavate ora questi sbocchi e sbocchi che necessitano per l'esercito, per l'esercito, per l'esercito e per l'esercito. Ora, stabilite per favore questo compito, cercate di vedere gli eventi che vi servono, proprio gli eventi edificanti, gli eventi felici, per esempio la ricostruzione, oppure il risanamento che vi serve, eccetera. Per fare in modo che le nostre azioni siano precise, quindi inequivocabili, siano stese, diffuse verso tutti. Allora, noi dobbiamo tenere conto del fatto che il pensiero, in questo caso il pensiero delle persone, come per esempio i nostri cari, familiari, amici, i nostri conoscenti, come per esempio i nostri cari. Allora, come lo facciamo? Per esempio, percepiamo l'intero pianeta, l'ottica dell'intero pianeta, proprio troviamo l'ottica giusta in cui anche tutte le persone attorno ci percepiscono come le persone sane, eterne, felici, e percepiscono così. E l'intero pianeta ci percepisce in questo modo, quindi dobbiamo trovare questa ottica giusta, dobbiamo sforzarci un po' per trovare questa ottica giusta, per concentrarci su essa. Dobbiamo vedere che la percezione di tutte le persone, in questa ottica, è uguale a che percepiscono tutti, per esempio vi percepiscono tutti come una persona sana, felice. Quando noi, per esempio, lavoriamo con la coscienza collettiva e sviluppiamo, scopriamo questa ottica, secondo la quale tutte le persone riescono a vedere il futuro infinito, che è infinitamente felice. Questa è una tale percezione che vediamo sia nel presente che, contemporaneamente, anche nell'infinito futuro. Vediamo che nell'infinito futuro c'è già tutto, c'è anche questa percezione. Grazie.